E' funzionante, bravo, c'è la registrazione, se non la maiala come al solito, registrazione partita, pedale destro, leader decolla a 1 e 3, a 1 e 3 fra 3, 2, 1, andiamo, leader a 1 e 3 adesso. 2,40, 2,50, saliamo, pronti, carrello via, carrello via, ora. Riduco a data 1.1 per rejoin, saliamo a destra, carrello rada, grazie, scusate, check formazione, 2, 3, 4 lontano, 5 col 4. Stemmato a 40, continuo a salita, velocità 310 metri al secondo. Stemmato a venire in abitacolo con me? Mi mancavi. E ti sento vicino. Un'ocità 2,90. Trimmo a 30. 8,50. 9,50. 9,50. 9,50. Dimmi qualcosa, dimmi qualcosa, qualcosa, qualcos'altro, a posto così, a posto così. Ok. Trimmo a 50. Stringiamo. Come siamo messi di dietro? 2 in. 3 in. Stringo a destra. Più bank, più bank, più bank. Jumping, stai che sei uno serio, come siete messi? Siamo distanti. Ok, invertiamo. Ok, orizzontali. Puoi fare un, magari, un volo livellato, così, se vi ha un po' la formazione. Se siete d'accordo, inizia una lunga virata a sinistra, così vi aiuta a chiudere. No, siamo vicini, però, giusto da chiudere bene. Allora, livelliamo così. Ok, siamo in auto level. Ata 1.1, velocità 410. Ah, guardaci, dici qualcosa. Sì, sì, lo sto facendo. Stai vicinissimo, Luigi, anche. Fate paura. Bravi, bravissimi. Ma siamo uguali? No, stai un po' troppo dentro. Devi uscire un po' e andare un pochino più avanti. Luigi, perfetto, non ti muove. Ok, un po' meno. Un po' meno, stai un pochino più indietro. Ma è un metro, eh? Stai, con la mia visuale tutto indietro. Io metto la punta della sua ala nell'angolo del vetro. Eh, se stai un po' avanti, Luigi? Eh, sì, ma ti ho accorto. Ok, sì, comunque andate benissimo. Vai, radar, non avere pietà. Daglielo come un maiano inferocito, vai. Dagli al gas. Violentalo, vai. Ancora. Non desistere. Jumping stampato, vai benissimo. Bravo, radar. Adesso un pochino meno. Pelalo, non esagerare. Vai che vai bene. Bravo. Molto bene. Cinque metri più avanti. Sei dentro, radar, eh? Complimenti. Bravo. Eh, devo riuscire a starci, però. Perfetto. Adesso siamo un po' troppo dentro. Pelalo, togli un attimo gas. Lasciola andare dritto, non ti preoccupare. Non salire, non salire. Bravo, togli gas. Appena vedi che vai indietro, ti ne ridai. Vai che vai bene, vai che vai bene. Non perdere il morale. Un pochino a sinistra. No, non perdere il morale. Vai, Jumping, tu metti in ala di airone con classe. E siamo a posto. E siamo a piramidone. Ok. Corradar, io in questo momento ti ho perso. Sì, sono un po' in fondo. Eccolo. Lui ci siamo un po' fuori, eh? Ste, sei un po' dentro. Jumping, se riesci ad avvicinarti un po' a Ste, è meglio. Cioè, devo stare più esterno? Ok, adesso sì, è un po' troppo esterno e un po' troppo fuori. Rimani così ma vieni solo più avanti. Ok, perfetto Ste, perfetto. Perfetto. Anche un pochino più fuori, eh? La distanza va bene, comunque ci siete ragazzi, ci siete. Jumping, se riesce, è un po' più vicino. Ok. Eccolo un pochino di più. Però ne manca poco il Jump XC6. Se anche sulla verticale siete perfetti. Complimenti ragazzi. Puttana Eva. E vanno il radar. Ok. Abbiamo detto che devo rallentare, cazzo, non riesco. Ah, ma se non sei messo male, eh? Tieni di dentro quel gas lì. Derapa sulla destra col timone. E ti metti in posizione, con classe. Io per esempio uso tantissimo il timone quando devo stare in formazione così, perché mi è molto comodo. Luigi sei molto dentro, eh? Sei molto vicino. Guarda che lo Ste è un pochino più, un pochino più lontano. Jump XC6 un po' troppo fuori. Sì, sì, mi ero, era uscito un filo. Sì, sì, no, era per dire. Sì. E tieni conto che se io star notisco, lui perde la formazione, praticamente. Allora, ma devi usare di più. Cioè, ci devi venire addosso. Ok, qui siamo anche un po' veloci, eh? Lo riduciamo data 1. Ok. Autopilot off. Fra 2, 1, ora. Ok. Ok, viro a sinistra. Data 1. Il rumore del motore ce lo siamo persi, ma non fa niente. Mi do un filo di pedale interno, giusto per rompere i coglioni. Sì. Sì. Sono rimasto a 65. Sono rimasto a 65. C'è il formazione, livello orizzontale. 3, 4, 5. Mi sto andando in cancreano alla mano. Rilassa ogni tanto. Eh, lo so, ogni tanto è mollo, ma... Anzi, bisogna imparare a tenere il morbido. Sì, sì. Rilassandosi in continuazione. Perché pure a me me succede. Non fai altro che peggiorare la situazione. Sì, sì. Se ti rigirisci. Sì, sì. Sì, adesso con la mano aperta. Ah, io quello faccio. Ogni tanto apro e chiuso. Ogni tanto, ogni 10 secondi. Ma per me è fondamentale il trim. Io adesso non ho la mano sui comandi. Eh, ma io... Io sto a zero. Sei a zero? Sì, sì. No, a zero non di trim. Io il trim ce l'ho di default. Però non sto né picchiando né cabrando. Sto solo facendo delle piccole correzioni e basta. In tutti i lati, chiaramente. Microscopica. Io se lascio la cloche, la hero va dove vuole. Più o meno. No, il mio no. Ah, io sto picchiando un po', sì. No, io tendo a cabrare invece, penso. Senza aver toccato il trim. Secondo solo, eh. Secondo solo. Alla. Sto cercando l'aeroporto. Ma dove cazzo siamo finiti? Sarà a nord-est. No, a nord-ovest. Da quelle parti. Ok. Penso che sia la nostra a sinistra. Ma... Non è che non c'è la cosa sulla mappa? Eh, mi sa che me lo sono dimenticato. Ragazzi, viviamo a sinistra. Un attimo, no, 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 fermo. Fermo a tutto. Fermo a tutto. Qui c'è una città enorme qua. La maiala di Sumatra. Nel dio. Ma il cazzo, siamo finiti. Vai, vai. Vai, proviamo una virata a sinistra. Vediamo se troviamo qualcosa. Qui alla sinistra fa due, uno, ora. Non ho ritrovato l'aeroporto. Vai, meno male. Cioè, non so se è il nostro, però uno l'ho trovato. Non è pitturato. E non so se è il nostro o quello dopo. Però che cazzo se ne frega. Vogliamo il nostro pubblico. Numerosissimo. Beh, ragazzi, l'anno scorso le frecce tricolori, quelle svizzere, dovevano fare un'esibizione in un paesino in montagna. L'hanno fatta tutta. Quando hanno finito si sono accorti che sono passati nella valle di fianco. E non in quella dove devono passare l'oro. Ho sbagliato a valle. Sono svizzeri e non è che vi prendi a rabbia. L'ora era giusta, però la valle era sbagliata. Ragazzi, fra Comaschi e svizzeri, corre proprio cattivo sangue. Non abbiamo proprio buoni rapporti. Per usare un eufemismo. Vabbè, siete i frontalieri, avete un sacco di scambio lì, no? Anche col Monza non ci avete dei buoni rapporti. Sì, è vero, anche col Monza. Anche col Monza. Anche col Varese e anche col Lecco. Allora siete voi, però, eh. Eh, ma sono rivalità di confine, lo sai com'è, no? Il tuo peggior nemico è sempre il tuo vicino, no? Paesanesimo. Esiste in tutta Italia, sto fatto. E poi vogliamo fare l'Europa. Ma come si fa? Come un paesone, eh. Come un paesone. Siamo 80.000 abitanti, dove cazzo deve andare? Ma dai, così pochi. Eh sì, eh. Più grosso latino, pensavo di no? Posto di merda, como, pieno di bigotti. Guarda, asciò a perdere. Qui sono ancora convinti di essere i ricchi industriali comaschi, invece non hanno ancora capito che i cinesi sono arrivati, ci hanno rullato come i tamburi e non avevano neanche più gli occhi per piangere. Ora si comprano tutto. Quasi sono già comprati tutto, ecco, io sono fallite tutte le aziende tessili. Ragazzi, pronti per il looping? No, no, io parlo del bar e del ristorante, ora si comprano tutti quelli che hanno chiuso. E negozi attivati. Molto bene. Riportiamo Ata 1.1, aumento. Ok? Scendiamo fra 2, 1, andiamo giù. Scendo, 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 scendo. Confermo, non è il nostro aeroporto. Scendiamo ancora. Scendiamo ancora. Pronti con i fumi? Ok? Livello. Ata 1.3. Ora. Fumi on. 3, 2, 1. Andiamo su. Richiamo. 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 Richiamo in piedi. Rilascio. 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 Gli do un po' di piede alla destra. Ok? Riduco. Ata 1. Comincio a richiamare. Richiamo. 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 Ok. Livello fumi off. Ata 1.1. In sedita a sinistra per rejoin. Voi andata? 2 bene. 3 bene. 4 così così. Però sono qua. Guardo dove sono. Bravo. Jump X dimmi qualcosa. Sì, sì. Non male. Non male. Ok. Passiamo. Informazione in fine indiana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Se mi posso permettere un consiglio. 2 in. Se mi posso permettere un consiglio. Tenete come riferimento il leader. Non tenete come riferimento l'aereo davanti a voi. 3 in. Salgo di quota. Salgo di quota. Salgo di quota. Ok. Livello. Metto autopilot. Ata 1 e 1. Ok. Preciso spaccato. Vi guardo da fuori. 4 quasi in. Diciamo. 1. Allora, 2, perfetto. 3, un po' troppo distante. Arrivo, arrivo. Allora, secondo me, per questa cosa qua, è meglio se ci invertiamo, Jump X radar. Va bene. Basta pure, Jump. Ok. Ok. Allora. Ok. Un po' meno vicino, Jump X. Ok. No, no. Deve cercare. Vai. Ok. Luigi, riesci a venire un metro o due più avanti? Sì. Non fa l'azione. Perfetto. Sì, sì, pure troppo. Adesso pure troppo. Jump X. Ok. Irony va bene. Jump X si è un po' troppo lontano e un po' troppo in basso. Ok. Ancora troppo lontano e un po' troppo in basso. Ok. Ok, Jump X secondo me è così. Sei un po' in basso, Jump X. La distanza c'è, però sei troppo sotto rispetto agli altri. Ok. Quando è rotto i coglioni lo dite, eh? No, no. Se mi dici così prendo riferimento con te, capito? Ah, devi mettere l'aereo nel vetro superiore. Stai se è un po' con te. Però la grandezza, quanto grande... Come il vetro. Devi fargli riempire la finestra. No, di più, di più. L'ala destra, la punta dell'ala destra sborda. Almeno nella mia posizione. Sei un po' lontano, Jump X, ma poco. E ci sei quasi. Autopilot off fra tre, due, uno, ora. Ok. Mi allineo con la nostra pista. Siamo tornati. Virata destra fra due, uno, ora. Allora, se riusciamo, proviamo a fare i tonno tutti nello stesso punto. Quindi non tutti insieme. Ok? Lasciamo passare un secondo dal leader e poi dopo lo facciamo anche noi. Cerchiamo di rimanere sull'asse. Sì, no, non ci riusciamo. Vabbè, proviamo. No, è la prima volta che proviamo. È la prima volta che proviamo. Vediamo come va a finire. Andiamo a provare l'otto cubano, ragazzi, ok? Cos'è l'otto cubano? Vediamo che succede. È disegnare un otto sopra la pista. Due mezzi looping. Ok? Andiamo giù. Fra due, uno, ora. A che c'è andato il tonno? E come fai a girarti? Ah, facciamolo insieme. Ah, te posso, sì, no. Ok? Scendiamo, 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 scendiamo. Di sinistra, scusate. Ma dove cazzo sono finito? Vabbè. Ok? Atta 1.3, ora. Pronti con i fumi? On. Andiamo su. Rechiamo, recchiamo, 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 recchiamo. In piedi. Rilascio. Sono al top. Riduco. 45 gradi. Tonno a sinistra. Con un po' di pedale. Ok. Via pedale. Rechiamo. Atta 1.3. Rivado su. Rechiamo, recchiamo, recchiamo. Sono al top. Ok. Riduco. Altro tonno a sinistra. Ok. Scendo. Fumi. Off. Atta 1.1. In salita a sinistra per rejoin. Che dite? Va. Mi sono staccato subito. Ritorniamo informazioni a Piramidone. Un feedback? Io ci sono stato, tranne l'ultimo, dopo l'ultimo tonno, però dura. Va studiato, va studiato. Però si può fare, sicuramente è più facile del tonno a botte. Oddio, sicuramente non lo so, però forse è più facile. No, pensate di no? È una minchiata? Giampix, cosa dice? Non lo so, non l'ho visto. Cioè, dopo lo vediamo nella registrazione, non so, non ci saprei dire. Vediamo questo effetto che fa. Perché in effetti forse questo è più bello anche da vedere. Anche se poi più... Non lo so. Secondo me... Scusa, Gigi. Ho sbagliato, manovra. Pardon. Ok, mi allargo a destra. A destra, eh. Mi allargo a destra. Non capirà, però tu... E c'entro. A parte che te l'ho capito che stavate indicato ieri, eh. No, cosa? Ah, bene. Sono vicino. Sì, di vicino, vicino. C'è che formazione. Due. Tre quasi. Quattro. Cinque. Ok, tre dentro. Ok, orizzontali. Allora ragazzi, adesso ci giriamo di cento... di centottanta gradi e andiamo a provare il ventaglio. Cos'è sta scritta che è uscita fuori? Eh, che sa signore cosa cazzo è rimasto dentro sta mappa qua. Ok, abbiamo invirato a piatta a sinistra. Allora, andiamo a provare il ventaglio. La cosa fondamentale... Il ventaglio... Adesso ci allunghiamo, ok? La parte sinistra della formazione si sfila. Verticalmente. Impianta, no? Si sfila e deve essere allineata all'ultimo aereo dell'ala destra. Mi seguite? Io non riesco a capirlo. Cioè dovrei vederlo proprio pubblicamente in una via... Io che devo fare la parte sinistra che so io che devo fare? Allora, Jumpix è in ala destra a stay. Perfetto, tu Jumpix rimane dove sei. Allora, radar praticamente dovrebbe mettersi in ala sinistra a Jumpix. Ho un'idea, eh? Ok? Come scusa? Appunto. E tu rimani... Cioè il concetto è che chi è a destra va a sinistra e chi è a sinistra va a destra. Durante la manovra. Eh, ma partendo con la manovra io che devo fare? Niente. Tu devi essere più indietro, non devi essere a sinistra di airone. Altrimenti quando lui rompe a sinistra forte ti prende in piedi. Ok, devo quindi arretrare io. Hai capito? Il concetto è solo quello. Ok. Cioè la necessità dell'arretramento è solo per quello. Ok, ok. Quindi noi dobbiamo solo arretrare, ok. Esatto, dovete solo arretrare. Così chi ci guarda da davanti siamo uguali. Accorgio. Ok, però c'è lo spazio per aprire. Ok. Ma quindi io e Jumpy cosa facciamo? Rimaniamo qua e poi? E poi facciamo il ventaglio. Quindi tu vai a sinistra. Allora. Io vado al posto di Gigi. Allora, Jumpyx... Aspetta, aspetta. Jumpyx esce a sinistra e fa una virata piatta a sinistra. Tu sali a 45 gradi a sinistra. Luigi sale a 45 gradi a destra. E Radar sale in verticale con me. Ok. Poi è di alta a destra. Vabbè, non vuoi fare lì. E poi facciamo il rejoin nella stessa direzione dove veniamo. Quindi un 180 praticamente. Esatto, perché poi andiamo a fare la bomba. Ok. Ok. Andiamo ad allinearci. Ok. Allineamento decente. Vai. Allunghiamoci. Secondo me è questa che è una monola che fa scena ed è facile da fare. Questa è una puttanata. Mi sono allunghato, pronto. Ok. Andiamo di alta 1 e 2 per alta 1 e 3. Un volo livellato. Ok. Pronti con i fumi. I fumi li possiamo dare anche un po' prima, secondo me. Poi la guardiamo. Fumi on. Ok. Facciamo la manovra al rompere. Ok. Come al solito. Ok. Pronti a rompere. Radar, tu vieni con me. Rompere fra 3, 2, 1, via. Pronti? Fumi off. Fumi off. Ora. Via. Torniamo indietro e andiamo a fare la rejoin. Ok. E' un po' di non aver capito una sega. Ci ho fatto una virata piatta, sono stato sul piano. Vieni con quello dovevi fare. Giusto. Giusto, giusto. E ora siamo appena. Infatti è venuta bene, non so. Sì, sì, non è male. E questo è facile, raga. E questo è la partiamo a casa da facile e facile. ok, Lidia ATA 1.1 in salita Prua Nord diciamo che dobbiamo fare sui fumi che abbiamo, della striscia dei fumi dobbiamo rifare il congiuggimento Lidia avvisimi quando togli il motore scusa adesso ci sono si va bene invece conviene che lo rifacciamo sui fumi iniziali va bene va bene, guarda, sono andato a destra va bene, lo facciamo sui fumi sui biancorossi li vedono, non ci sbagliamo va bene Luigi manca 3, sta arrivando velocità Mauri 3,60 livello A1000 fra poco 3,70 ATA 1.1 3,80 ok, 3 in incomincio a virata a sinistra piatta fra 2, 1, ora ora che facciamo? andiamo a fare la bomba allora, quanti siamo oggi? 5 allora radar deve girare quello che fa Luigi di solito a quanto è? a 180 gradi poi numero 2 e numero 3 a 60 gradi a sinistra e a destra esatto numero 5 e numero 6 a 120 a sinistra e a destra ok numero 5 non c'è quindi solo riguarda solo jump x jump x non c'è il numero 6 per la verità ok, stringo a sinistra stringo a virata a sinistra stringo ancora jump x com'è? sì, sì, ci sono allora i fumi li diamo in in verticale e li togliamo quando siamo orizzontali di nuovo ok sui dia del nostro comandante ok orizzontali pronti per virata a destra di allineamento rifacciamo un attimo di quota ok vediamo a destra 2 1 ora radar com'andiamo? verona bravo ok allineati quindi andiamo orizzontali livelliamo orca puttana mi sono perso un attimo a sinistra ok ragazzi scendiamo fra 2 1 andiamo giù andiamo 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 manetta costante mi riporto un po' a destra sto imbrogliando perché ho canato allineamento eccoci qua ma cazzo vuole ok ora andiamo a sinistra ok molto bene livello livello orizzontale atta 1 e 3 fra 2 1 ora pronti a salire fra 2 1 andiamo su richiamo 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 lo tengo così in piedi andiamo ancora ok siamo al top riduco pronti a rompere rompere fra 2 1 fumion via rompere ok pronti fumion fumion ora andate a 1 e 3 2 1 e andiamo su parichiamo parichiamo in piedi sono al top scendo quando scendiamo andiamo a fumi pedale sinistro ok puntiamo al tricolore fumi on bella fumi off mirate dei 180 gradi a sinistra cioè facciamo il rejoin sui bianco verdi in alto vai radar dagliere come un maiale vai senza nessuna pietà radar su questa non devi restare con Mauri ma devi andare dalla parte opposta quando lui rompe tu in realtà stai andando proprio alle sue spalle al contrario ok e invece dovevo andare a destra si va bene non importa si si questa l'hai fatta praticamente con lui in realtà si si l'ho fatta con lui ho copiato tutto ok esatto fai la stessa roba ma andando nella direzione opposta di lui e vi incrociate dopo quando siete passi eh ma io ho bisogno della guida io ho bisogno del guinzaglio quindi se non ho davanti uno che mi tira vabbè adesso ci prendi la mano c'è problema ok leader quota mille riduco la data 1 e 1 ora continuo la salita fino a 1.700 almeno 1.500 3 in 60 check formazione 2 rientro 3 dentro 4 oppa la laia ok allora rara adesso tu segui Luigi ok e proviamo a fare il cuore Jumpix e ste seguono me ok ok livelliamo Jumpix ci sei? si si scusate se 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 facciamo 180 gradi a sinistra ok viriamo piatto apra 1 e 1 scusa tranquillo Jumpix stai fumando ok la stringo stringo un po' di più teniamo quota che siamo messi bene perdiamo 1.000 metri scendiamo a 500 saliamo in verticale ok quando siamo in verticale accendiamo fumi e leader e alla destra ruotano a destra numero 4 numero 2 e alla sinistra ruotano a sinistra mettiamoci pure in fila indiana ok cioè teniamo formazione in fila indiana dal momento della rotazione è inutile cercare di rimanere in ala perché è troppo difficile orizzontale quindi rimango in ala finché non inizi a ruotare mi metto dietro esatto e ti metti in fila indiana e finisce lì ok pronti per l'ultima virata di allineamento a destra ok allineiamo a destra ok ragazzi andiamo in su scendo 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 ancora scendo con più maschiazza sento molto maschio scendiamo ancora orizzontali ok ragazzi va molto bene molto bene ata 1 e 3 andiamo su in verticale convinti richiamo 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 pronti con i fumi fumi on via rompere ruotiamo destra andiamo a destra andiamo a destra un po' di pedale vai stai non mi mollare non mi mollare stai ok richiamo richiamo e torno sul tricolore torno sul tricolore riduco 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 ok sono sul tricolore ora fumi off ok non dategli gas ok non dategli gas ata 0,7 invirata piatta a sinistra facciamo rejoin sui bianco verdi come è venuto? io ho una ciofeca non male non male il cuore è venuto bene guarda non è venuto male no no il cuore è venuto benissimo dice io ho fatto ti ho perso ti ho overshootato al top io vabbè ma se è la prima volta che lo proviamo tutti insieme dobbiamo ridurre il cabra durante la discesa in modo che la parte verticale in discesa viene più dritta un po' più dritta però è venuto bene dai comunque secondo me non è venuto male no abbiamo fatto di molto peggio ata 0,7 un'orizzontale per rejoin minchia come devo aver sciolto 2 minuti minchia come una grandina piovevi da te si si 2 minuti grandina ogni 2 ore sarete contenti che tolgo fa ok check formazione 2 fuori 3 dentro 4 5 dentro adesso ok allora stringo virata a sinistra per perdere un po' di velocità iniziamo virata a sinistra fra 2 e 1 andiamo velocità 3,90 Luigi richiamo ok richiamo un po' di più richiamo ancora 3,60 3,50 ok lo tengo così questo maledetto cornuto quando vuoi che perde la velocità non la perde mai pronti carrello fuori carrello fuori fra 2,1 ora e mettiamo i flap così la perde la velocità e adesso gli do anche i flap guarda tanto non siamo messi male pronti i flap fuori fra 2,1 ora andiamo tutti in fila con i flap 10,20 30 40 50 60 70 80 100 90 100 ok velocità 2,50 ata 1 aumento ad ata 1 aumento ancora ata 1,1 pedale destro ci siamo disallineati perché sono un cretino ok va bene ata 1,2 teniamo 2,50 un po' meno pedale destro abbiamo recuperato allineamento pronti con le luci luci on 2,50 4,1 15 va bene dai pronti con i fumi fumi fra 2,1 ora nutrimo a 70 ok siamo orizzontali andiamo bene pronti a togliere fumi togliamo fumi fra 2,1 ora iniziamo a virata a destra ci siamo quasi vai andiamo a destra con classe spostiamoci in formazione ad albero quindi con i due aggregari esterni in ala al numero 4 e vedi tu Luigi se lo vuoi fare tu il leader se lo fa la radar vedete voi lì dietro ho già Ampix non lo so fate voi ok come va Luigi io ti seguo ragazzi prima formazione si sgancia seconda continua dritta prima formazione vira a sinistra fra 2,1 ora quindi tu vieni con me gli altri non lo so vai gli altri con me dai ecco io continuo dritto ok aumento ata 1,3 vira ora ste parlani ci sono così più veloce più facile no si ok stiamo andando sui bianco sui doppio bianchi mi hai toccato tu si porca troia ha smesso di registrare sto cornuto maledetto da dio eh fino al tempo devi stoppare e accende a me se si hai già fatto ok stai incominciamo a ridurre 1 e 2 anche io comincio a ridurre 1 1 e 1 1 e 2 sempre un po' di pedale sinistra allenamento buono riduciamo a 1 ata 1 tremo a 50 tremo a 50 ok lo lasciamo scendere andiamo giù lo riduco 0,8 lo lascio scendere ancora 1 tremo a 40 lo riduco 0,6 l'area sinistra riduco richiamo lo richiamo scendiamo riduco lo tengo così lo tengo così idle riduco un imbalzo idle ok comincio a frenare piano 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 120 110 100 70 la prendo qua ma adesso abbiamo ancora un po' di pista 50 50 a destra scusa già vai tranquillo 30 20 libero a destra guarda bene così luigi perfetti il mio gruppo stava bravo guarda i belli il leader fa sempre la differenza il leader fa sempre la differenza guarda se facessi la differenza il leader sarei un asso ecco ma guarda pure il mila fa la differenza non solo l'inter no no il leader dalle nostre parti è un litro è il leader sì sì è il leader ragazzi esco che così lo vediamo ok ok io non ci sono in audio ma vi vedo ok vi devo staccare un attimo ciao 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 ciao